Buongiorno ragazzi, ci è stato chiesto di spiegare quali sono gli aspetti propedeutici dello studio delle discipline geometriche nel biennio in funzione dei due indirizzi di grafica e architettura del triennio successivo. Sicuramente dal punto di vista della grafica, le competenze che si acquisiscono sono delle competenze di tipo manuale, la capacità di gestire un certo tipo di disegno tecnico, una certa precisione, una modalità di rappresentazione che è diversa da quella che per esempio viene effettuata nelle discipline pittoriche. Il fatto di avere queste competenze tecniche e di saper leggere delle modalità di rappresentazione come le proiezioni ortogonali, delle assonometrie sono funzionali al fatto che possiate essere dei progettisti che sanno anche leggere lo spazio, sanno leggerlo attraverso una pianta, sanno leggerlo attraverso un disegno e sanno rappresentarlo. Questo serve perché nel momento in cui si vanno ad affrontare dei progetti come possono essere per esempio il packaging, cioè la costruzione di confezioni, è fondamentale saperle non solo pensare ma saperle rappresentare e rappresentare anche mediante una rappresentazione tecnica nel momento in cui si tratta della forma della scatola per esempio. Così come nell'affrontare progetti come le installazioni oppure la segnaletica è fondamentale saper leggere lo spazio, saperlo gestire e saperlo rappresentare non solo attraverso delle forme grafiche più artistiche se volete ma delle forme grafiche prettamente tecniche, una rappresentazione sonometrica, una rappresentazione in scala, sono competenze necessarie anche a un grafico per poter essere davvero un professionista a 360 gradi. Passo ora la parola al prof Lucini che vi può invece spiegare quali sono le caratteristiche peculiari per chi andrà a fare il corso di architettura. Buongiorno ragazzi, mi riallaccio a quello che ha detto la professoressa per completare il percorso del biennio propedeutico poi all'indirizzo della classe terza. Le discipline geometriche. Le discipline geometriche si concludono il secondo anno del biennio con la prospettiva. Siamo partiti negli anni precedenti e nei mesi precedenti con la rappresentazione in due dimensioni, con la lettura delle piante, dei prospetti, la rappresentazione delle ombre, la rappresentazione sonometrica e quindi quella prospettica. Quello che facciamo è imparare delle regole geometriche per la rappresentazione di una stanza, di uno spazio all'aperto, di uno spazio chiuso, secondo regole ben precise. Queste regole che studiamo e applichiamo ci servono poi per passare in classe terza e dare libero spazio a quello che è la vostra creatività, sganciandoci poi da queste regole più rigide che abbiamo appreso nel biennio. È un passaggio fondamentale perché se voglio rappresentare attraverso lo schizzo e a mano libera un'architettura o devo fare la bozza di un manifesto e quindi in grafica, devo avere ben presente queste regole che abbiamo fatto nel biennio. E questo ci serve per poter progettare. Avere delle regole di rappresentazione ci aiutano a progettare. Progettare quindi vuol dire buttare su carta un'idea che sia per grafica o per architettura è fondamentale e dobbiamo farlo con queste piccole regole che ci aiutano poi nella fase successiva. Quindi a elaborare e a mettere su carta ogni sogno, ogni idea e quindi i nostri progetti. Vi invitiamo a guardare dopo questo video i nostri singoli di grafica e architettura in cui vi spiegheremo singolarmente entrambi gli indirizzi. Arrivederci.